Entro... Apri! Dammi, dammi, ti aiuto, ti aiuto, ti aiuto! Lasciamele qua per paure! No, ma vorrei almeno aiutare su una cosa! Lasciamele qua per paure! Lasciamele! Ce penso io! Ce penso io! Lasciamele qui! Lasciamele qui! Non me la toccare sta roba, io ci devo lavorare! Eh, ma anch'io ci lavoro qua! Allora non me la devi toccare, va bene? Anch'io ci lavoro qua! Non me la devi toccare! Non me lo ha, non mi serve la aiuto! Cosa io non so cosa fare! Ma mi ha mortificato, io voglio aiutarla eh! Stop! Aspetti, aspetti! Minutate. Usa. Com'è la macchina? Un paraurtà! Allora tutto a posto? Un paraurtà, non so! Un paraurtà, ci manco un paraurtà la macchina! che lingua parla? gli italiani, i parafanghi della macchina lo sai, l'italiano parla, lo sai la macchina, lo sai il paraurto non c'è e non c'è, appunto, ci stavo però prima che bello è colpa mia eccolo il paraurto tanto se è incollato con lo sputo io che posso farci? ma questo mi sta buona mia casa, se fa veramente? prova a metterlo, prova a metterlo ma tu prova a metterlo il c***o, ma che si è combinato? ma questo proviamo a metterlo, aspetta puoi anche tu aiutare?